Luca Argentero Luca Argentero guru in amore, le belle parole della fidanzata Cristina Luca Argentero e Cristina Marino stanno ancora insieme, a Vanity Fair lei parla del suo rapporto con l'attore. . Dopo il divorzio con Miriam Catania, nella vita di Luca Argentero si è fatta strada Cristina Marino, classe 1991, anche lei volto noto nel mondo dello spettacolo. . Come attrice Cristina ha raggiunto la popolarità con Amore 14, film di Federico Moccia, mentre il primo debutto in tv per la stessa è arrivato con la partecipazione a Dance Dance Dance, programma Sky. . Oggi di lei si parla soprattutto per la storia d'amore che la lega ad Argentero, su cui Cristina, in un'intervista per Vanity Fair, spende solo belle parole. . Cristina Marino, Luca Argentero il mio guru. . . Dopo aver parlato delle persone a lei care a Cristina viene chiesto anche di accennare qualcosa riguardo al suo rapporto con Luca Argentero. . Lui è diventato il nuovo guru. . Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. . Gli faccio duemila domande sul suo lavoro afferma lei è diventato il mio punto di riferimento. . Un sentimento questo che però lei stessa sa di essere reciproco. . Non solo complicità, ma anche rispetto e voglia di stare insieme, questo il segreto del loro rapporto. . Luca Argentero in tv per la Rai, il successo di Sirene. . . Ultimamente Luca Argentero è tornato sul grande schermo grazie al ruolo ricoperto nella fiction Sirene. . Il progetto Rai ha portato il bell'attore in tv riuscendo, forse anche grazie alla scelta del cast, a registrare il record di ascolti e di interessi. . . . . . . . . .